va bene, ciao amici, sono Matt Video e mi trovo qua in Piemonte a provare uno degli scivoli più ripidi d'Europa adesso il boss qua della situazione mi ha detto che si può fare tutto accelerato e noi ci proviamo, gli diamo il pugno, acceleriamo e partiamo allora adesso vediamo, il binario è un po' bagnato mai mai, ce la si fa, ce la si fa, è fattibile, è la prima volta che faccio un bob col binario e devo dire che la situazione è quanto strana, oddio, mi tengo, mi tengo, aiuto non mollo, non mollo, vorrei mollare ma non posso, ormai è una sfida personale mi ha detto di farlo, tutto accelerato e non si molla un cavolo vai, vai, vai ah, bellissimo raga, bellissimo allora qua, penso che siamo quasi alla fine si cadà di quei colpi il bob a perdere le gambe prima discesa oh, bellissimo, bellissimo va bene ragazzi siamo arrivati in fondo se venite in questo posto mi raccomando non frenate e taggatemi nei vostri video ciao 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 ciao